ciao a tutti oggi vediamo questa valigetta completa di forbici sono tutte forbici di altissima qualità lavorate a mano artigianalmente in italia a premana questa adatta alle pellicine e alle cuticole questa è uguale la differenza non sta nella forma ma nel materiale questo acciaio nichelato mentre quello che abbiamo visto prima è acciaio inox tutte queste forbici hanno sia l'opzione inox sia quella in acciaio nichelato le forme sono le stesse la lavorazione la stessa le lame perfette queste sono delle forbici lunghe e servono in particolare per le unghie dei piedi molto robuste avendo la lama corta il braccio lungo sono perfette per le unghie robuste queste a lancia invece servono per le unghie incarnite c'è la misura più grande e la misura più piccola la forma particolare di questa punta serve proprio per le unghie incarnite queste invece sono le classiche forbicine per unghie di mani e piedi tutte queste forbici le potete trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica vi aspettiamo per i prossimi video ciao a tutti